Sì, grazie Presidente. Io penso che su questi temi dovrebbe esserci unità di intenti, unità politica chiaramente su un indirizzo che dovrebbe unire, accumunare, fortificare un po' un indirizzo politico che deve essere comune a tutti, come ho detto. Perciò si dà una visione chiara su quello che si vuole sul territorio di Malagrotta, senza fare polemiche strumentali, politiche che in questo momento su questo tema non devono esserci, perché c'è una battaglia ancora attiva, perché è un territorio che soffrirà negli anni a venire, dove anche le famiglie dei nostri figli dovranno vivere in un territorio che è stato martoriato e inquinato in modo impattante da una discarica che conosciamo tutti quanti. Perciò io onestamente, diciamo, politiche e battaglie strumentali su questo tema non le farai. Anzi, forse cercherei di trovare un'unità di intenti, una visione comune proprio per sostenere questa visione, sostenere questo indirizzo. Ricordiamo a tutti che c'è ancora un impianto di rifiuti ospedalieri all'interno del polo industriale della Valle Galeria, perciò del sito presso Malagrotta, che un futuro potrà essere riacceso. Questo non lo sapremo. Oggi questa mozione dà un indirizzo molto chiaro, molto sensibile su quell'impianto, ma su un'altra impiantistica lì presente, perché come sappiamo lì c'è una rete di impianti all'interno di quel terreno agricolo, insomma, che è quello appunto del territorio di Malagrotta. Perciò, anzi, bisogna portare atti di indirizzo per difendere e per tutelare ancora di più quella zona. I comitati ci ringrazieranno, la natura ci ringrazierà. Ecco, io perciò, questo colleghi, proprio per dirvi che eviterei ogni tipo di polemiche, perciò ringrazio la consigliera Ficcardi, che è la prima firmataria di quest'atto. La Commissione Ambiente, come dire, è sempre sul tema, sul pezzo, come si dice in gergo, proprio per affrontare di petto queste criticità. Nel municipio 12 c'è una commissione speciale Malagrotta, perciò, comunque, l'allerta è sempre molto alta. Voteremo a favore e speriamo, insomma, che quel territorio, prima o poi, possa vedere anche l'attività da parte della Regione Lazio per avviare una vera e propria bonifica. Grazie, Presidente.